Ciao a tutti! Oggi insieme a voi voglio realizzare una cornice molto speciale. Questa cornice è di Lal Fof ed è stata ideata per racchiudere tutti i ricordi in una sola cornice. Qui ci sono degli spazi, qui andrà l'impronta della manina, qui del piedino e in questa sezione invece potete mettere quell'oggetto che vi fa ricordare quel fantastico momento. Può essere il braccialetto della nascita, può essere il test di gravidanza, può essere un calzino, un ciuccio o un oggetto. Questa è la versione mamma perché nel kit che vi manderanno troverete due cornici. Questa è la cornice per nonna o per la zia, quindi potete utilizzare questa cornice anche come regalo. E questa invece è la cornice che vi ho fatto vedere prima, eccola qui, per la mamma. Allora, iniziamo. Cosa ci serve? Veramente poche cose. Perché la scatola che vi arriva è super accessorata. Qui abbiamo l'argilla non tossica. In dotazione vi verrà dato anche un piccolo mattarello, ma potete benissimo stendere anche con il dorso di un bicchiere. Abbiamo le fornici, come vi dicevo, e poi tutte le lettere. Poi vi verrà dato in dotazione un piadesivo per attaccare quegli oggetti che vi dicevo prima. Iniziamo. Qui abbiamo un libretto di istruzioni molto 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 dettagliato e vedrete che in pochi passi e in modo facile incorniceremo il nostro ricordo più bello. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ed ecco qua la nostra cornice Laffof. Come avete visto sono veramente facili gli step per realizzarla e devo dire che è uscito veramente un capolavoro. Le cornice Laffof sono state progettate per prendere le piccole impronte da 0 ai 12 mesi. Se anche voi volete acquistarla è molto facile, basta andare sul sito www.lalfof.it Da mamma vi consiglio vivamente questo prodotto. Adesso non mi resta che posizionarla in un angolo della casa. Buon shopping. Buon shopping. Buon shopping. Buon shopping. Buon shopping. Buon shopping.